La Gamennone racconta la storia della casa di Iatridi, abbandonata per la punta Gamennone, che è partito per la guerra insieme a Menelao, lascia sola la moglie clitennestra. Sicuramente la commedia greca e soprattutto la tragedia greca riescono ad essere sempre attuali. La storia di questa famiglia che è dannata, che comunque dovrà subire una vendetta, nonostante almeno Degis non avesse fatto niente. Voglia al cielo che sugli eroi vinti dall'avidità non piombi la brama di distruggere ciò che non si deve. La vendetta dei morti potrebbe essere detta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.